ma c'è il seno bloccato come cazzo vai andare che cazzo è buono terza stavano dai giù giù ah di la va bene intanto giù fino in fondo dai io ho capito che eccesso di coso e andiamo giù ma dopo dobbiamo scendere da qua dopo dobbiamo scendere da qua e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma questo è un cesso, eh? Cioè il freno davanti puntato. Va a cagare, va!